Ciao a tutti, questa è l'anel art di oggi, un monocolore fucsia con un france nero e dei puntini. Alla fine del video troverete tre varianti per questa nail art. Vi lascio al video, ciao! Come sempre ho già applicato una base trasparente su tutte le unghie e un fucsia su tutte le unghie, tanne che sull'indice dove ho applicato uno smalto nero. Adesso con un pennellino e lo smalto nero faccio il mio france e voi potete anche usare lo scotch tagliandolo a punta e posizionandolo come più vi piace. Io come state vedendo faccio due puntini al lato delle unghie facendoli più dritti possibile e un puntino al centro delle unghie e poi collego in tre puntini. Creo dei puntini sempre più in alto per arrivare al risultato che più mi piace. E poi riempio tutto con lo smalto nero. E poi riempio tutto con lo smalto. E poi riempio tutto con lo smalto. E poi riempio tutto con lo smalto. adesso potete applicare il top coat e lasciare così la vostra nera oppure con un dotter e lo smalto nero fare un puntino al centro delle due linee che si congiungono o applicare un brillantino al posto del puntino e come ultima alternativa potete fare altri puntini sempre più piccoli verso i lati delle unghie e questo è il risultato finale spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video ciao!